ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono mistero e oggi siamo qui su come allevare il nuovo mostro epico uscito proprio l'altro ieri cioè il buicciolino epico ragazzi allora eccolo qui oggi proveremo ad allevarlo vedremo se ci riusciremo abbiamo circa 120 gemme non contate quelle 20 perché molte userò per le torce dovremmo farcela spero in teoria abbiamo solo circa 80 gemme dato che molte se ne andranno circa 30 se ne andranno per velocizzare il buicciolino epico se ci uscirà quindi speriamo bene ok allora vi dico subito la combinazione che è colpo di pugno e fauci ne ho fatte ho fatto una fauce normale per questo video poi la toglierò vedremo un po se ci riusciremo ok non è uscita subito abbiamo le fauci che ho velocizzato ma non velocizza va bene riproviamo e vediamo un po e sono uscito un'altra volta le faucizza dai su questo è l'ultimo tentativo veramente ci confido 3 2 1 no non ci credo no non è possibile se qui da 13 minuti possibile no non è possibile 120 diamanti no non ci credo no non ci credo non ci credo veramente è un colpo basso è davvero un colpo basso proprio quando non ho 16 diamanti no 15 15 no dai io non ci credo è incredibile ok ragazzi sono riuscito finalmente a fare i diamanti andiamo ad accelerare eccolo qui il buicciolino epico ragazzi ce l'ha fatta sudare questo mostro ce l'ha fatta sudare veramente ci ha fatto sudare 7 camicia che dico 7 27 camicia ci ha fatto sudare ma adesso finalmente eccolo qui abbiamo anche le gemme per accelerare lo andiamo ad accelerare ed eccolo qui ragazzi è lui il buicciolino epico finalmente siamo riusciti a crearlo e lo andiamo a mettere allora eccolo qui lo andiamo a mettere proprio vicino a quello vero così almeno togliamo quello vero eccolo qui livello 4 è altissimo è anche più grande di quello raro c'è molto più grande di quello raro verità andiamo a vendere tutto fuesco purtroppo addios e andiamo a piazzare il buicciolino epico quanto ci abbiamo messo ragazzi quanto ci abbiamo messo e finalmente eccolo qui guardatelo è bellissimo più bello di quello raro chi ti vuole mamma mia guardatelo guardate è bellissimo mi è costato soltanto non so due ore di farming di diamanti però vabbè dai vabbè ne è valsa la pena insomma ok ragazzi questo video è giunto al termine se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima ciao ragazzi